che hanno forma degli output visibili. Ogni progetto nasce principalmente da un'obiettiva e da un'idea di business, sia che si tratti di un progetto interno, sia che si tratti di un progetto di un cliente. Dai requisiti progettuali poi l'idea viene scomposta in task. Questi task vengono assegnati ad un responsabile di riferimento con una deadline ben precisa. Piano piano così prendono forma vari output visibili, che si tratti di un logo, di un sito, di un piano di comunicazione strategica o di un prodotto. Ma siamo già online? Allora innanzitutto una buona pianificazione, una buona suddivisione dei compiti e poi ovviamente un clima di serenità e di fiducia rappresentano gli elementi chiave per la riuscita di qualunque progetto. Ma, va, è finito, giusto? Non ho detto neanche una parolaccia.